Una cilentana, Barbara Maurano, originaria di Castellabate, presidente del club Giovani Soci BCC Buccino Comuni Cilentani, entra a far parte del Comitato Nazionale dei Giovani Soci come referente della Campania. Ad affiancarla in questa avventura ci sarà Francesca Sorgente della BCC Capaccio Pestum in sostituzione Germana De Rienzo della BCC Buccino Comuni Cilentani. Fin dalla sua costituzione, il club Giovani Soci ha aderito al gruppo dei Giovani Soci della Campania, partecipando anche a tre forum nazionali. Nel 2017 il club ha avuto parte attiva nell'organizzazione del forum nazionale tenutosi nel Cilento. Il lavoro e la sinergia con le altre banche della Campania hanno portato il club Giovani Soci a rivestire questo importante ruolo a livello nazionale, afferma Barbara Maurano. È un momento storico, importante di cambiamento per le BCC, sia a livello nazionale che regionale. Noi giovani siamo la risposta a questa nuova era. Ricoprirò il ruolo con tutto l'entusiasmo e la voglia di fare che mi ha spinto in questi anni. È un'occasione non solo per i giovani soci, ma per tutto il territorio cilentano che sta diventando sempre più importante nei contesti nazionali. Come giovani cercheremo di non farci scappare quest'occasione.